Salve a tutti ragazzi, sono LordKane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato dopo un po' di tempo, ma sono cose di cui parleremo, visto che chiaramente d'ora in poi tornerò a caricare un sacco di video anche su per voi ragazzi del tubo, un bel modo per definirvi, no? Ma più o meno YouTube è quello, no? Sto producendo tante cose per i ragazzi del gruppo di studio, ho veramente poco tempo che mi resta, però ho trovato un giocatore che mi ha chiesto una review un po' su cosa e ho detto ma perché finalmente non fare qualcosa anche per voi WeWars, se dice WeWars non lo so, ma non posso, la lingua, buttala, buttala, quando parli buttala e non usarla. Allora, bando alle ciance, veniamo subito al punto, abbiamo queste 63.890 mani, mi raccomando il numero perché c'è un 6 e c'è un 9, c'è il magico 69, queste mani da analizzare, mandatemi da JustDoIt, giocatore che sta giocando sui poker, sta pensando di passare dalle parti di People's Poker perché evidentemente ha trovato un po' di difficoltà con le Mi10, ci sta, niente di particolare, quindi andiamo a vedere su questo database un po' come impostare una lettura e che cosa possiamo consigliare al nostro hero, ci concentriamo momentaneamente sulle mani del 5 che sono un po' più recenti di quelle del 2 e magari abbiamo qualche statistica un po' più significativa, mi raccomando come solito per prima cosa cerchiamo di valutare da stats cosa vediamo di un po' come dire strano, sbilanciato, mi chiedevamo un giocatore proprio sul canale come si fa a riconoscere un parametro non giusto, su che criteri basarci e gli ho cercato di rispondere in qualche modo, non è così facile la risposta e invece come già lui diceva guardando diverse review possiamo capirlo, dobbiamo fare un po' di esperienza per esempio guardando queste statistiche subito vediamo un went to showdown basso, 26, 26 semplicemente basso, un went to showdown normale va verso i 30, un 33 può essere anche un buon went to showdown se sappiamo quello che stiamo facendo un went to showdown 25 cioè raggiungere lo showdown una volta su 4 significa o un'impostazione troppo sbilanciata, troppo agra che fa fondare troppo spesso e poi abbandonare la mano oppure un giocatore che tende a overfoldare o comunque difendere poco al river, non pianificare bene un range magari di check-out per chiamare river probabilmente è un campanello che ci fa capire che da qualche parte stiamo lasciando troppo troppo ai mani quindi già un went to showdown 25 ci fa come minimo dare un occhio ad altre cose, per esempio la tendenza a non avere o del bleff o overfoldare vediamo infatti che in tribetati abbiamo 5 che è basso, abbiamo 5 anche la small blind in sostanza, 5 al baby abbiamo 5, 5 è il nostro tribet medio e ci fa pensare che stiamo tendendo a tribetare delle mani già predefinite e non riadattarle sull'effettivo range degli avversari tranne magari in case al limite come qua in questo tavolo dove abbiamo Warnie, giocatore che su 50 vari già ha giocato casa, famiglia, stack e dependance con tutto il suo range anche contro un giocatore del genere istintivamente riusciamo a cambiare questo 5 di tribet, capiamo subito che dobbiamo allargare il nostro value ma probabilmente manca il criterio per farlo in maniera perfetta quindi che range sta aprendo, quanti soldi ha dietro, quali sono le sue tendenze post flop che equity ha la nostra mano contro il suo, cosa vogliamo raggiungere con un giocatore che gioca a 40 bui quindi come costruire il nostro range e come sbilanciarlo visto che chiaramente tenderemo ad avere un range sostanzialmente lineare in value senza quindi bisogno di polarizzare, mettere parti di bleff o altre linee di gioco non utili c'era un'altra discussione su cos'è il GTO in sostanza, in realtà il GTO sarebbe in teoria il gioco versus optimal quindi quando noi passiamo anche su un solver delle mani, delle situazioni, solver ci dà la prima risposta su optimal poi noi andiamo a cambiare le frequenze del nostro avversario ecco al di fuori di questo lato intuitivo, quindi qualcosa cambiamo contro qualche giocatore la tendenza su tante mani è quella di avere un range di tribet più o meno sempre uguale che non cambia molto in base alle informazioni che abbiamo ma in un gioco come il poker dove ci basiamo su informazioni incomplete non possiamo semplicemente dire vabbè, teniamo una linea un po' netti, fa lo stesso è chiaro che stiamo abbassando il nostro BB atteso ed è ciò su cui dobbiamo lavorare, alzare il nostro BB atteso nelle linee dei tribet più, quindi 5 di tribet, 2 di 4bet, 1 di 5bet, range di stack off molto molto chiuso sì, è in linea con il field, non dico che sia sbagliato una linea di gioco che ci permette magari di tablare un po' di più non è uno spot molto frequente, se pensiamo che abbiamo due i 4bet vuol dire che è raro come evento quindi non è uno spot che sposta molte chips, quindi il nostro BB atteso non cambierà di tantissimo lavorando su uno spot raro, dovremmo prima lavorare sugli spot frequenti per esempio andando a vedere le nostre linee di race first in abbiamo un 23 di MP, manca la under the gun perché sono statistiche che uso per i 5 max ma lo andremo a vedere dopo nell'analisi di statistica posizionale le linee iniziali tendono ad essere un po' troppo loose 23 da MP, forse tanto, 28 da cut off, può avere senso ma dovremmo andarlo a raggiustare un po' basse poi in the late, quindi da bottone, da small blind dove apriamo 37-33 quindi uno stile, un range first in un po' impostato è quando impostiamo dei range su popolazione, cioè non stiamo riadattando nella situazione specifica non abbiamo aumentato il range in questo caso, ottimizzato quindi non ci siamo messi nella condizione di realizzare il 100% del nostro potenziale abbiamo scelto di realizzarlo un po' meno creandoci dei range sulla popolazione qualcosa che di media va bene, ci permette di fare decisioni un po' più facili magari su qualche tavolo in più può aver senso, attenzione solo poi a non rendere queste tendenze definitive nelle nostre linee di gioco perché sarà poi difficile andarle a togliere comunque un campanello che suona, abbiamo detto, il 1-2 da un po' basso il nostro 3-bet, 4-bet eccetera, leggermente piccolo il nostro range still medio-basso anche per un field un po' fischioso come questo la linea di difesa contro 3-bet forse eccessiva per lo stake ma andrebbe bene al 50%, mi raccomando solo analizzare cosa stiamo difendendo contro l'effettivo range del nostro avversario che equiti abbiamo contro di loro, che tendenza a passflop quanto è il suo stack, cosa se riusciamo a realizzare più o meno equiti per via della posizione o delle tendenze al nostro hop e non semplicemente queste mani in questo caso infatti ne abbiamo poche ma per esempio da small blind stiamo aprendo 33 e foldando di più, stiamo foldando quasi un 70% contro il 3-bet quando dalle altre posizioni stiamo difendendo di più può avere senso ma non ci andremo a vedere dopo la linea di BVB invece è oggettivamente un qualcosa di sbilanciato stiamo foldando 75-75 sia contro il bottone ricordiamoci la prima stazza 75 è il fold del BB contro il bottone che basta aprirsi cose sia contro il bottone che contro lo small blind qui c'è un problema concettuale che viene subito alla luce intanto stiamo foldando 3 volte su 4 quindi siamo passibili di essere auto-exploitati da qualsiasi cosa come avete presente in Giappone che hanno quella musichetta bellissima da concentrazione quei giardini meravigliosi con la canna di bambù e l'acqua canna di bambù e l'acqua non so se ve l'ho spiegata molto bene ecco se noi mettiamo una canna di bambù sulla tastiera a parte che probabilmente fonderemo il computer che clicca il tasto erase da bottone quella canna di bambù ci sta exploitando è terribile finché non prendiamo un panda che se la mangi comunque foldiamo 75-75 quindi stiamo overfoldando quindi probabilmente abbiamo già deciso che tipo di mani difendere di media contro quando ci rubano il buio ricordiamoci inutile che vi faccia tutti gli appunti su come si difende un buio ma la nostra mano specifica avrà un equity contro la mano rilanciata dal nostro avversario avremo delle potos che dipendono da quanto è il piatto rispetto a quanti soldi dobbiamo mettere avremo delle modifiche del fattore R in base al gioco OP o IP in base alle tendenze del nostro avversario al suo stack come gioca le note sulle size eccetera e noi in sostanza stiamo foldando delle mani che fanno meglio di meno 100 BB100 foldando il big blind facciamo meno 100 100 volte un big blind foldato fa meno 100 BB100 magica matematica e in alcune mani stiamo concedendo troppo cioè magari una mano avrebbe fatto meno 80 difese in realtà sono 20 di profit quindi over fold e bui è una cosa da sistemare anche abbastanza facilmente abbiamo una linea comunque di aperture piuttosto nitti una cibetta abbastanza sbilanciata tendiamo a cibettare spesso e volentieri 70-60 flop turn soprattutto nei tribettati dove il nostro range è particolarmente nitti la nostra cibetta flop è altissima 3 quarti del nostro range andando poi a spilucchiare un po' di mani di Hiro ho visto la tendenza a fare size un po' grandi nei tribettati è una tendenza che è frequenti size grande e frequente in realtà una size cioè una statistica una frequenza così alta di continuation bet dovrebbe portare perché possa essere minimo bilanciata a cibettare con size più piccole così da poter effettivamente cibettare un po' più spesso non è un'impostazione che credo terrei nei tribettati ai micro stakes dei poker ma è comunque un qualcosa su cui ragionare tornando alla domanda che mi era stata fatta vediamo una statistica sbilanciata 75 flop è quasi sicuramente una statistica sbilanciata ci sono reg che impostano un gioco soprattutto nei single raised dove teniamo una cibetta molto frequente con una size piccola generalmente 35% pot è un metodo semplice per diciamo poter anche giocare più tavoli perché ci mette nelle condizioni di fare cose un po' più semplici e sicuramente non è optima al 100% contro tutti i giocatori ma ci permette di tablare un po' di più che magari il giocatore del 50 che deve fare anche più volume per tirarsi in barca a questi 3-4k di backstreet approfitta no? quindi fa delle giocate un po' più semplici che poi possono essere esploitate ma se i nostri avversari non lo fanno poco importa insomma può andare bene le linee di fold alla cibetta vanno bene il check fold è relativamente alto relativamente però perché in realtà va bene difendere meno del nostro range di check contro un field mediamente passivo quindi può non essere male attenzione solo che se stiamo cibettando così tanto a non rendere troppo vulnerabile il nostro range di check cosa plausibile ci mettiamo 70 check foldiamo 70 quindi della parte che stiamo cercando foldiamo la maggior parte può andare bene considerando il field a cui stiamo giocando non deve diventare una cosa che poi si associa al nostro gioco successivo le linee di aggressor sono relativamente alte soprattutto la river bet che è 37 quindi è alta no? vuol dire che ci mettiamo mettiamo river spesso decisamente spesso andremo poi a vedere l'associata alla river con le fiche se c'è qualcosa di strano donk bet alta 11% è mediamente alta dobbiamo pensare che tanti reg che impostano la donk bet dal 3-5% sono in situazioni multi-way particolari possiamo tenerla al 10% con una lettura perfetta in realtà direi che un 10% di donk bet può andare anche bene soprattutto in un field un po' fischioso ma va ottimizzata veramente tanto bisogna capire molto bene quello che stiamo facendo andando ad analizzare un po' di mani ho visto che non è questo il caso quindi ci abbiamo messo tipo un quarto d'ora solo a 10 minuti solo a vedere le linee generali ma era un po' che non vi facevo un video volevo divertirmi quindi riassumendo abbiamo le linee dei 3-bet il fold e bui le aperture posizionali un win to showdown un po' basso associato anche a uno stile vagamente nitty tag un po' preimpostato una c-bet mediamente alta e una river bet abbastanza alta dei range di race first in un po' aperti da early un po' chiusi da late e un range da small blind particolarmente chiuso quindi sarebbe il caso anche di andare a dare un occhio a cosa succede in e-zap perché mi aspetto delle linee già componiti già da un'impostazione di questo tipo andiamo a dare un occhio a cosa facciamo in e-zap abbiamo 63.000 mani 7.000 sono i zap quindi un discreto numero la nostra linea è estremamente chiusa apriamo il 40% da small blind quindi foldiamo più di metà delle volte dobbiamo pensare che quando foldiamo oltre a fare meno 50.000 dicendo perché stiamo lasciando giù mezzo buio rinunciamo anche alla nostra share la nostra possibilità diciamo di vittoria di quel buio e mezzo che è giù quindi metà delle volte quando foldando metà delle volte la metà delle volte in cui andiamo a giocare dobbiamo fare meglio di meno un sacco cioè dobbiamo recuperare veramente un sacco dovremmo decisamente studiare un po' ricomporre un po' le nostre linee di e-zap anche perché apriamo un 40% ci mettiamo 80% che è tantissimo se pensiamo a una syringe dobbiamo decisamente riadattare non stiamo facendo un gran che bene facciamo meno 10 BB 100 grosso modo e anche la big blind stiamo sostanzialmente giocando il 30% delle nostre mani foldando le 70 con un gioco fuori posizione che è non ottimale di nuovo una linea abbastanza sbilanciata ma le e-zap si studia facile ci si può anche divertire e vedo che i ragazzi del gruppo che seguo quando fanno anche la loro esperienza di studio velox spin e eccetera tornano poi magari anche nel cash e chi decide di non continuare la lunga carriera evolutiva dello spin e go e tornano come giocatori migliori molto più piazzati anche nelle mie gioche zappe le zappe è abbastanza da rivedere bisogna proprio ricostruirlo ristudiarlo non è super importante per un giocatore 5 max 6 max ovviamente ma è qualcosa che poi si trascina dei leak nel resto delle nostre delle nostre giocate nelle nostre impostazioni e linee di gioco volevamo vedere la river con l'efficiency che è incredibilmente alta 1,7 è parecchio alta soprattutto associata a una riverbetta alta quindi c'è da capire cosa hero sta effettivamente bettando un po' un po' di troppo andiamo a vedere qualche filtro ora che abbiamo visto cosa veniva fuori dalle linee generali allora intanto abbiamo vedo un call call 15% da small blind è curioso intanto io consiglierei di togliere le mani di ezapp perché ho visto che ce ne sono abbastanza quindi intanto le togliamo poi mettiamo gli spot dove abbiamo chiamato si rilanciando no quindi abbiamo solo chiamato e affrontiamo un razor per ora ci accontentiamo quindi affrontiamo il razor e decidiamo di chiamare decidiamo di col collare allora da small blind stiamo facendo meno 7 che non ne vedi meno 22 vorrei vedere che tipo di mani stiamo chiamando ce n'è un sacco di mani diverse allora proviamo a togliere le mani che può avere un senso chiamare non voglio dire che si debba chiamare ma togliamo per esempio le mani quelle di origine un po' più alto quindi non dico che si debba fare in realtà abbiamo una tribet bassa quindi probabilmente stiamo sicuramente stiamo overcollando ma tolgo comunque 9 suite di jack off insomma le carte quelle un po' più alte le coppie che non è proprio naturale tolgo solo questa per vedere cosa stiamo facendo col resto del nostro range le mani quelle strane curioso che stiamo chiamando in questa situazione stiamo facendo un EV di meno 83 stiamo un po' scoppiettando la gente su 230 mani pochissime per avere statistiche attendibili però notiamo che in posizione con lo stesso tipo di mani riusciamo a fare soldi fuori posizione perdiamo più di quanto avremmo perso foldando addirittura da big blind tolto il nostro top range stiamo facendo meno 95 quando avremmo fatto meno 100 foldando e stiamo difendendo poco a momenti difendiamo di più da small blind che da big blind e cerchiamo fuori posizione rispetto a che in posizione queste sono cose abbastanza importanti non voglio dire foldiamo sempre da small blind brutta roba non giochiamo ma quando giochiamo dobbiamo fare meglio di meno 50 e per avere questo call in range attenzione fra l'altro agli assi X le combo off ai connectors con un gap alle pocket pair baby possono sicuramente aver senso nel nostro call in range quando abbiamo una situazione ottimale per esempio un certo big blind l'uso passivo eccetera o uno small blind un po' aggro che magari fa per due allora non siamo a rischio di dominazione e lo svantaggio di giocare fuori posizione è meno incisivo contro un giocatore particolarmente sbilanciato visto anche che la nostra tribet in questo spot è bassa torna al 5% dovremmo un po' rivedere le nostre linee di tribet preferendo generalmente la small blind un'impostazione lineare piuttosto che polarizzata di solito poi dipende anche da cosa stiamo affrontando però il nostro call in range è brutto segnale abbiamo parlato un win to showdown bassissimo un fold to flop neanche altissimo comunque abbiamo un win to showdown veramente scarso con mani deboli fuori posizione contro razor che generalmente è un razor tight visto il livello è un po' uno spot dove andremo a perdere in sostanza ed è quello che sta sostanzialmente avvenendo diamo un occhio a qualcos'altro dicevamo i nostri un open preflop raise andiamo a dare un occhio a cosa sta succedendo lasciamo pure il filtro dei tre o più giocatori non cambia un grand che decidiamo vediamo quando abbiamo rilanciato yes e quando siamo gli original razor quindi su piatto non rilanciato vediamo che tipo di mani stiamo aprendo allora ho lasciato qualcosa come è che stiamo perdendo in tutte le situazioni ho sicuramente ah non preflop raise è bene bene è giusto mettere il filtro esattamente opposto a quello che volevamo mettere quindi preflop raise yes su piatto un open quando siamo più di due giocatori giusto per togliere le mani di zappa che magari cambiano qualche statistica allora facciamo profit vediamo che tipo di mani sono state aperte da lettura da solo guardando le stats ne ho viste un po' troppe è probabile che ne vedremo troppo anche qua allora da questa posizione apriamo mani tipo ASU6 ASU7 K9 Q9 ASU9 K8 anche questi 10 off anche se immagino sia un orario no sono un discreto numero in realtà su queste cose vediamo un attimo su frequenza eh sì sono infatti un discreto numero lo stiamo aprendo un po' spesso e come idea ASU3 suited è meglio di ASU6 anche se non sembra perché o 6 ha più alto 2 o 3 però ha una playability maggiore prende dei gadget in più può fare qualcosa in più post flop e da queste posizioni noi dobbiamo preoccuparci sostanzialmente di fare soldi perché non abbiamo abbastanza informazioni visto che siamo i primi a parlare per pensare di realizzare più della nostra equity in situazioni ottimali e dobbiamo compensare questo svantaggio di informazioni riducendo i nostri range riducendo sì sostanzialmente come effetto pratico ridurremo io consiglierei a Hero di togliere brutalmente questo tipo di connectors che possono servire in un field particolarmente reggoso anche per avere una difesa contro tribet che possa itare su certi board che se no ci palleggiano via e mani che generalmente non fanno molti soldi ma servono per altre cose no? reception copertura dei board e via dicendo e toglierei gli assi suited sotto asso 9 forse anche asso 9 toglierei 9 suited toglierei gli assi più deboli toglierei probabilmente tutti questi connectors di default poi le mani come K10 Q10 K10 suited non dico 100% delle volte no ma quando è che riusciranno a fare meglio di quello che fanno di base? ogni tanto in certe situazioni in certi tavoli particolari non il 100% delle volte quindi cut off e MP lo possiamo sicuramente snellire un po' di questi qualche combo anche da MP abbiamo una tendenza ad avere qualche asso X in overplaying già anche da questa posizione notiamo che queste combo alte non fanno bene di nuovo i nostri connectors con un gap che non vanno granché bene troppe combo 8 suited da questa posizione è raro che facciano soldi possono fare soldi non dico di no ma è raro dipendere che situazione abbiamo gli assi suited iniziano ad aver senso più o meno tutti ricordiamoci di nuovo asso 6 asso 7 un po' borderline in questa situazione da cut off cosa stiamo aprendo gli 8 suited i 9 off tutti gli assi off e tutti questi connectors quindi c'è un po' la tendenza ad avere queste mani perché ci piacciono ora non dico che non facciano soldi per forza i 9 off e gli 8 suited possono far soldi attenzione agli assi baby tipo asso 6 asso 7 asso 8 asso 2 off che generalmente richiedono qualcosa in più o l'asso perché per realizzare più equity di quella che abbiamo abbiamo bisogno di una certa fold equity magari preflop contro certi giocatori un certo controllo di gioco post flop alcune mani contro fish tipo un asso 6 probabilmente fa meglio k9 contro diversi tipi di giocatori tanto l'asso x non si presta bene ad essere bleffata visto che con asso alta dobbiamo far foldare una coppia di 2 per riuscire a far soldi il nostro avversario non è molto propenso a farlo invece magari una mano come k9 e difficilmente farà foldare una mano migliore della propria ma ita meglio diversi board delle top pair delle mid pair che magari ci permetteranno di raggiungere showdown più frequenti e più felici sostanzialmente da bottone la nostra linea un po' concessiva di nuovo la tendenza ad overplayare le parti basse dei range questi suited connectors bassi e la totale assenza di range exploitativo contro chi folda un po' troppo se noi fossimo contro due giocatori uguali a noi noi siamo da bottone contro noi stessi da small blind e big blind realizziamo talmente tanta equity grazie alla parte di fold equity che è la parte preeminente del nostro range perché 75% tribetta small blind e diciamo 5% chiama 10% 25% folda big blind arrotondiamo 35% delle volte qualcuno difende ho esagerato apposta ma 65% delle volte qualcuno folda quindi nella nostra equazione della realizzazione dell'equity 65% delle volte noi investiamo due bui e facciamo più 1,5 5% delle volte veniamo tribetati facciamo 10 e diciamo che con la nostra mano debole come Q4 stiamo perdendo i nostri due bui quindi è una piccola parte dell'equazione il 20% delle volte veniamo chiamati da un range dell'avversario e giocheremo la nostra posizione con la nostra equity contro il range dell'oppo ma è talmente piccola questa parte dell'equazione che la parte iniziale basta farci fare soldi quindi GTA oriented dovremmo aprire negli attici nelle realtà dei fatti non lo faremo perché il nostro avversario si adatteranno si adatteranno ok però scusate la discussione lunga ma volevamo fare un discorso fatto bene per una volta ogni tanto allora vediamo anche sull'apertura abbiamo visto l'apertura non open vediamo l'apertura sui limpatti anche se non ho motivo di pensare che sia sbagliata comunque lasciamo per frese vediamo abbiamo visto l'anopen vediamo sull'imper quindi abbiamo un solo limper per ora ci va più che bene allora sui limper stiamo facendo soldi ma ho l'impressione che ci sia un minimo di overplaying anche qua allora da qui infatti i connectors baby sono ancora difficilmente riusciranno a fare abbastanza soldi ora pensiamoci ora prendiamo un'altra prendiamo prendiamo cutoff prendiamo cutoff allora cutoff stiamo aprendo diversi ASX qualche auto suited questi connectors bassi che sembrano essere abbastanza frequenti prendiamo il nostro papam quindi strumenti gratuiti pensiamo a una mano come che ne so 6-4 suited che vedo nel range di nostro hero ora stiamo isolando fish no scusate la botta sul microfono ma l'ho maltratto per farlo funzionare meglio e spoiler non funziona fish limpa 60-10 probabilmente anche il giocatore che limpa più spesso quindi li diamo più meno 50% gli togliamo le mani più forti che molto spesso anche fish avrebbe rilanciato li diamo qualche ASX un po' di connectors un po' di suited non credo abbia per forza tutti questi kx stiamo facendo una stima a grosso modo gli diamo facciamo cosa esageriamo vediamo tutti suited tutti gli off che possono fare vaghe scale tipo queste potrebbe essere un grosso modo un loro range di limpa una porzione delle mani che non ha segnato vengono rilanciate una porzione delle mani azzurre anche vengono rilanciate o limpate comunque limpa noi resiamo diamo così per nostra supposizione questa idea che fuori di metà quindi abbiamo 700 combo gli diamo 350 adesso andiamo un po' a sistemarle possiamo dargli direi qualche ASX magari non non il 100% degli assi ma qualche ASX comunque un po' di carte alte un po' di connectors che hitano qualche KX e QX magari folderà qualche donna un po' di suite io credo che le possa anche difendere le PER non credo le folderà mai una cosa così forse cerca sarebbe giusto dire che ogni tanto hanno queste quando li incollano ogni tanto hanno queste ogni tanto non hanno queste ma per ora limitiamoci a dire che hanno queste allora il nostro 6-4 suite giocato in posizione contro questi giocatori ha un equity del 38-39% giochiamo i P per cui riusciremo a realizzare qualcosina in più ma non tanto in più perché chiaramente se noi abbiamo 6 alta dovremmo riuscire a far foldare degli assi alti di K alta di 4 alta non è così automatico visto che stiamo isolando un fish dal profilo passivo se all'impatto molto probabilmente è un fish di profilo passivo in quello spot magari a un 60-40 che all'impatto la parte un po' più debole quindi il profilo preflop è passivo quando limpa e il range è ancora più debole quindi magari l'equity è maggiore ma il profilo postflop è più aggro e realizzeremo un po' meno equity in sostanza questa mano non è un ISO in value non siamo in valore contro quel range dell'oppo difficilmente realizzerà più dell'equity grezza che abbiamo visto che le tendezze al nostro avversario in sostanza è rianalizzata lo spot è una sorta di overplaying abbiamo preso una mano che ci piace perché è una figata 6-4 suite può fare scola i colori ma in realtà non gioca bene contro l'effettivo range dell'avversario rendendo le nostre frequenze un po' casuali ho rimesso le mani di Ezza perché non so applicare ma fa lo stesso la nostra linea di tribet bassa un po' in tutti gli spot consiglierei quindi a Iroo di studiare un po' come si compone un range di tribet analizzando il range del nostro avversario qual è il suo con il range la sua frequenza di 4bet cosa fa soldi in gioco lo stack quindi il range di stack off per poi ribilanciare l'indietro componendo meglio la 4bet la parte di value di blef cosa sostanzialmente fa soldi contro il suo con il range scontato della frequenza di 4bet non serve ottimizzare 100% ma una tendenza a tribet poco la vogliamo togliere dobbiamo pensare che noi stiamo giocando non per fare i soldi che verranno automaticamente quando giochiamo per la cosa seria che è migliorare il nostro gioco giocare 50.000 mani può sembrare uno spreco diciamo ho fatto 200 euro in 50.000 mani sono soldini ma probabilmente togliendo fogli dai vialetti avremmo conosciuto persone e fatto più soldi quindi in realtà non è il dato economico che ci interessa ma è mettersi nelle condizioni di essere più forti mano a mano che avanziamo nei nostri livelli e la linea il fold alla tribet dicevo mediamente alta ma la small blend non così tanto come tenevo le nostre cibet sono mediamente alte e la riverbet è alta win to shodan basso win to shodan 53 ma siamo anche in good run è perso di vedere vediamo un attimo in overall se stiamo sopra di cosa che credo si ok siamo sopra di non di tantissimo in realtà 130 con 95 di v siamo sostanzialmente lì oltimene non mi crashare un'altra cosa che vorrei andare a vedere già che siamo qua è qualcosa su versus player ora che io ho abbastanza mani andrò a vedere i giocatori contro cui abbiamo giocato più umani in win or loss vedo subito che non ci sono giocatori che ci hanno creato particolarmente difficoltà abbiamo un paio di giocatori contro cui siamo in sostanziale break even break even per chi mi è stato corretto il mio inglese maccheronico ma io maccheronico sono mica posso dire valut come dicono i francesi vedo pochi giocatori contro cui abbiamo loss frequenti tendo su numero di mani che era che se per esempio stiamo facendo poco contro king re vedo che abbiamo tante mani 600-700 mani giocate contro ne stiamo perdendo un po' di più di quelle che vinciamo e stiamo facendo even quindi se noi vogliamo livella pare come dovremmo cioè da leoni dovremmo prendere un giocatore come chi era? king re che fra l'altro gioca middle stack quindi non è fortissimo ma potrebbe essere un caso e crearci delle linee di gioco precise fra l'altro gioca simile a noi che siamo forse noi? no non credo però contro un giocatore di questo tipo vogliamo crearci sia dei leak molto simili delle linee ottimali di still delle linee ottimali di floating di posizione una buona tribet situazionale vista anche le frequenze post flop e diventare giocatori che siamo forti rispondiamoci decidiamo se siamo forti o meno abbiamo vinto soldi va bene probabilmente siamo forti ma vogliamo essere anche più forti dei 3 o 4 giocatori che ritenevamo forti per quel livello in questo caso abbiamo questo king re che non mi permette di dire niente su come gioca questo giocatore ovviamente ma vogliamo essere sicuri di essere più forti di lui studiamocelo mettiamoci la una mezz'ora poi creiamoci dei range situazionali posizionali vediamo cosa stigliamo cosa trebettiamo cosa stiamo forbettando anche se non mi sembra il giocatore che ci costringa a fare delle linee così profonde ma saliamo con la sicurezza di essere stati effettivamente capaci di battere il livello così come abbiamo fatto andiamo a dare un occhio visto che è tipo mezz'ora già che siamo qua mezz'ora che siamo qua un'occhiatina anche ai grafici mi interessava dare per capire cosa è successo un po' io sperando che il demanger non crashi a un passo dalla fine allora teniamo vediamo cosa è successo all'emid2 mi aspetto una rossa un po' bassa anche se abbiamo una riverbet un po' alte delle cibette un po' alte quindi magari qualcosa abbiamo recuperato ma abbiamo anche un wedge down basso e un alto fold e un alto cosa vuol dire un alto fold ai bui sì un wedge down basso abbiamo in effetti una rossa che cala con una discreta costanza la blu è un po' vittima anche della varianza ma in realtà non ci si può lamentare di una run di questo tipo associato a un profilo di questo tipo di gioco vediamo un attimo che è successo al 5 se il demanger ti prego il demanger non mi abbandonare proprio adesso qui la blu ha avuto un periodo di stanca un po' maggiore la rossa ha supportato abbastanza bene in sostanza se vogliamo vedere dei grafici migliori dal nostro punto di vista che ci diano una routine positiva abbiamo chiuso verde 23 sessioni siamo verdi verdi nel senso di positiva probabilmente sicuramente dobbiamo alzare il nostro BB atteso così da ridurre anche l'impatto della varianza qui la rossa si può sicuramente ottimizzare la blu non è rimasta altissima ma il nostro profilo abbastanza nitti che per quanto abbiamo fatto 8 BB 100 amica possiamo lamentarci di tenere un BB 100 così buono possiamo senz'altro e dobbiamo è doveroso insomma andare a lavorare per migliorare sempre di più il nostro BB atteso diamo un'occhiata a qualche mano marcata non ne ho messe tante apposta perché in realtà abbiamo già visto una lunga review era solo per vedere qualche spot un po' sbilanciato delle cose che abbiamo sottolineato no? che abbiamo sottolineato nella review allora in questo spot tiro a Q10 off un appunto non stiamo giocando 100 per e come mai non stiamo giocando 100 per ricarichiamo giocando 100 per magari ci siamo abbiamo perso mezzo pot prima chi lo sa comunque decidiamo di aprire per 3 che può anche andare mano ottimale range ottimale che giocatore chiama un 60-10 con 2 di 3-bet un vago profilo hit or fold comunque un giocatore station passivo bassa frequenza dappertutto giocatore non troppo pericoloso ha chiamato pre ha una bassa 3-bet questo borlo hit abbastanza bene noi siamo abbastanza forti con la nostra Billa e il nostro G cd quadri mettiamo veniamo raiseati con size piccola che tipo di range ha il nostro avversario quando ci fa questa move ora è vero che noi abbiamo il 10 pure di quadri quindi li bloccheriamo magari a 18 sicuramente non stiamo foldando su questa size ma il range del nostro oppo che ha anche una linea 63 di full flop un profilo loose passive una bassa 3-bet sarà composto da per esempio la combo che vedo più spesso è un asso jack un k-jack dei jack 9 jack 7 9-7 pochi 10-8 qualche draw forte tipo asso 8 quadri asso 10 quadri kq quadri mani così quindi non un range contro cui giochiamo benissimo ma mi va senz'altro bene anche l'idea di difendere tan casca 2 check bet un terzo la bet un terzo il giocatore passivo mi fa pensare alla mano relativamente forte ma non fortissima sostanzialmente le stesse che aveva prima su queste size difendiamo conosco 1-4 può anche andare river casca 5 di quadri qui iro sceglie per una betta abbastanza grande contro questo giocatore ma se pensiamo al range di hop che abbiamo visto all'inizio il flop quindi dei draw abbastanza forti dei quadri sostanzialmente nessun draw di scala perché tra l'altro Q10 ce l'abbiamo noi lo bloccheremo pure e stiamo bettando un po' forte quando il nostro avversario qua del suo range folderà pochissimo onestamente non sono sicuro che il nostro hop qui sappia foldare una combo come asso 9 con l'asso di quadri per esempio ha un guento uscito da un alto una riverbide bassa frequenza passiva e ci mostra di essere sotto a range per carità ragionando su cosa bloccheremo noi sul range dell'avversario questa mano ha senso abbiamo il 10 di quadri bloccheremo sia la scala sia il colore stiamo rappando un colore che avremmo potuto giocare uguale contro un giocatore che sta giocando le sue però sta giocando le sue carte quindi difficilmente avrà un range percepito o altro questo giocatore sarà lì che il maledice la sfortuna chiamerà col suo assonare e noi perderemo no scherzo però dal move è sensata ma contro il giocatore sbagliato quando sono un giro su jack ci sta la beta river probabilmente è eccessiva su questo tipo di giocatori diamo un occhio a qualche altra mano per vedere le frequenze un po' sbilanciate cosa succede qua il folderino apertura per 2 squizziamo va bene 5x come size può andare fold dell'original razor caraboni ti chiama un 50-30 basta tribeto mezzo spigui mezzo agro mezzo quello che è esce borperato bettiamo forte con una cbet alta in realtà questa texture a parte che non è una grandissima texture per realtà è un perato quindi generalmente il nostro opo folderà abbastanza spesso ma facciamo foldare una mano migliore della nostra noi abbiamo il migliore asso alta possibile sostanzialmente quindi dovrebbe foldare 2-2 che è la mano che viene subito dopo la nostra non credo che capiti siamo in valore contro qualcosa sì jack 9 jack 9-7 qualche asso più debole qualcosa di sì vedo anche una riverbet relativamente bassa ma il profilo sono su poche mani sembra abbastanza agro comunque se decidiamo di mettare queste texture dovremmo farlo magari spesso può avere senso ma la size dovrebbe essere un po' più piccola qui mettiamo un po' forte un po' con la turn casca 7 che è un disastro per il nostro range abbiamo squizzato due giocatori in questo caso noi 7 non ce l'abbiamo mai così come non abbiamo mai jack 9 non abbiamo mai 9-6 e non abbiamo nulla invece il nostro avversario era più forte di noi su questo board andiamo ancora a bettare con la size piuttosto grossa per poi venire resati e dover soldare 2 euro su un po' tipo di 10 il nostro opo fra l'altro mini resa chiaramente ci sta aprendo ma ci siamo sbilanciati con la parte di range sbagliato nello spot sbagliato sul board sbagliato contro un giocatore sbagliato non ce n'è uno che vada bene e una bet più piccola poteva aver senso per bilanciare i range anche un check su questi tipi di board anche se stiamo concedendo perché il nostro opo aggredisce abbastanza e spesso quando cerchiamo fondiamo la mano migliore se andiamo a cercare a k ma il perché della move qui non abbiamo planato lo stack non abbiamo planato le pod building scusate non abbiamo pensato al tipo di board non abbiamo non è un certo una schede del range del lopo il suo range è indifferente se non più forte su questa tarn per poi creare un piatto molto grande per poi dover soldare una cosa molto grande non troppo gigio ctt c'è un po' palleggiato allora una mano interessante per un po' i motivi c'è un'apertura per tre di giocatore di un'annittaggine importante chiamato da giocatore fish passivo corto non possiamo squizzare mai perché original raiser contro original raiser è una tribet che fa soldi folda tanto pre folda tantissimo posta un basso went to showdown sicuramente fa soldi non ci fosse stata nessun altro romani che ha potuto voler tribetare questa parte di range contro l'altro giocatore non c'è nessun motivo di farlo basta tribet basso stack passivo sono abbastanza ricordo sul fatto che si possa anche voler collare visto che abbiamo anche un altro fish super passivo che non rilancia mai mi può andare anche se un po' ci siamo chiamiamo su queste texture raiser nitti che apre 20% hita benissimo perché il suo range ha tante player tanti assi di kqk jack jack eccetera eccetera tante player eccetera e gioca in piso di noi qui decidiamo di mettare quando in realtà siamo contro un profilo che si ci metta un po' tanto in realtà non posso dire di no ma poi un altro giocatore short passivo quindi qui la dog bet non mi piace perché non fa valore contro niente non fa foldare niente che battiamo crea un piatto grande fuori posizione con un draw all'otto veniamo chiamati da un raiser tight turn mettiamo su una carta che fra l'altro migliora di più il suo range perché lui ha tanti kq per esempio kq a picca per dirne una ma ha tanti ha tante carte alte noi riusciamo mettandola su alzando fra l'altro ottenendo la seduta assalta river di nuovo casca la sua mettiamo due ma siamo contro un raiser tight che apriva tipo 25 ora è inutile per andare troppo sul pignolo ma se è un'apertura è circa 25 vediamo tanti assetti tante pair probabilmente avrà qualche k qualcosa di questo tipo esagerato in range guardando questo questo range su questo board facciamo un po' fatica a pensare di avere un vantaggio di range dopo che abbiamo chiamato la small blind comunque teniamo del senso di questo tipo non troppo raiser river dicendoci ecco ecco semplicemente una don bet non ottimale partita diciamo in maniera non proprio al cento per cento perfetto ci siamo trovati un po' a improvvisare apriamo kq tre peri in questo tavolo chiama un 50 20 con strane frequenze nel senso che per ora affoglie al cento per cento di flop vagamente aggro vagamente su poche mani comunque ok ci chiamo su questo mini bet raise call check mini bet raise lungo in call pa 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 perdiamo che è importante prima cosa partiamo corti questa è una cosa che ho visto in qualche altra mano giochiamo cento per santa polenta se abbiamo margine sul livello teniamo sempre lo stack cento per poi qui sul range del nostro avversario su un board asso k9 che motivo c'è di check raise bet con il push mini check puro in realtà non è da mano facile da giocare senz'altro bettare farebbe fondare spesso il nostro oppo check su mini bet la mano quando raise non è valore non è blef ha tanti asics ha un fish eccetera c'è un po' sfuggita di mano ma vedete che in questa mano c'è tanto dietro c'è il check raise un po' situazionale diciamo adesso c'è con un mini bettato adesso bettato e anche tar ne siamo andati in check raise su 6 un po' più lunga fra l'altro fish che fa mini bett e poi fa mezzo di tendere a avere anche la parte più alta del range di nuovo ci siamo un attimo persi di vista cosa volevamo fare in questa mano comunque limpa tutto il tavolo lanciamo a 30 che probabilmente una cifra un po' piccola da fare in questa situazione ma può andare chiaramente collano tutti su queste texture mettiamo qui mi va bene mettare un range un po' più piccolo non 75% ma senz'altro alzare size comunque va bene la bett chiama un 5100 con profilo vagamento di torfo 60 default 30 turn abbastanza passivo in generale una sorta di calling station che chiama su questo board ok check 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 tan casca la nostra mettiamo una size che può anche andare veniamo resati per carità di nuovo abbiamo 1,75 comunque dietro ma nel range di nostro oppo cosa può aver chiamato flop pensiamo che tipo di money può aver chiamato flop ci raise a turn fra l'altro su una carta che migliora il nostro range qui il nostro oppo come bottom range ci gira k3 a quadri per esempio pover senso no di solito questi giocatori raise a una turn proprio perché hanno migliorato la loro equity quindi avendo anche una bassa 3 bet potrebbe addirittura girarci di kq addirittura qualche ak potrebbe girarci qualche set qualche scala qualche doppia si potrebbe girarci nient'altro direi un asso 7 di quadri credo l'avrebbe chiamato quindi contro questo range non abbiamo motivo di bet collare in questo caso poi qua chiamiamo il nostro oppo gira 5-5 e noi ci siamo sostanzialmente un po' schiantate attenzione a giocare contro il giocatore e contro il range che ha il nostro avversario le ultime due mani dopo 40 minuti di review ok squizziamo 4 per può andare chiama vince life chiama anche l'altro esce una texture che potremmo volerci bettare fra l'altro ma cecchiamo tan casca blank bett raise all in cosa è successo bro in questo spot perdiamo contro set mi chiedevo solo se magari ci fossero degli episodi di mindset in famiglia nel senso che ricostruendo la mano non c'è nessun motivo di non ci mettere col flop check e raise all in committandosi è una cosa un po' strana ecco un altro dettaglio su qualche mancanza di lettura contro profilo che ho visto ricorrente contro rego ho visto che abbiamo fatto abbastanza bene contro fish abbiamo lasciato giù un po' di soldini isoliamo size piccola visto che c'è un giocatore che gioca tutto è un giocatore che gioca tutto sostanzialmente si può tranquillamente fare di più che è una size standard chiamalo tutti decidiamo di cercare su un board dove 1 a 30 0 default 1 a 30 0 default nessuno dei due rilancia parecchie mani quindi molto spesso qua hanno dei jack x dei 10 x pochissimi ass x qualche k qualche q onestamente preferirei bettare perché credo di far più soldi bettando piuttosto che ceccando nessuno dei due è particolarmente aggro non vedo nessun motivo per voler giocare diversamente questa mano potremmo bettare comunque non bettiamo cecchiamo ancora turn vediamo mini bettati da un 50 a 10 con 16 di frequency flop una con l'instation di quelle belle grasse probabilmente ci aspettavamo la bett di natale no? perché non è sempre natale ma quando c'è natale è meglio sfruttarla giocatore che ha un vago profilo aggro aggro mandando avanti con le street però attenzione perché stiamo ceccando 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 il nostro top value e qui andiamo a giocare contro una bett turn di un giocatore 50 a 0 che è betta piccolo noi check resiamo un giocatore di questo profilo vi ricordate la storiella di babbo natale cosa succede quando check resiamo le station succede che perdiamo il nostro opo c mini resa che tipo di range può avere il nostro opo che c mini resa turn ha o solo o solo il mio ha solo 10 jack non c'è nessun'altra mano che villa mini betta mini resa qua noi dobbiamo mettere siamo al 18% abbiamo 10 out per portare via lo stack e quando chiudiamo il full lui ci paga al 100% delle volte no fish mai folderà la mano di questo tipo qualsiasi altra mano possa avere in mano il nostro avversario non crede la betterebbe river mettiamo anche caso che abbia davvero kq davvero l'avrebbe giocata così non importa quella volta che ha kq al river non credo fra l'altro betterebbe quindi possiamo chiamare andare a vedere cosa succede al river river casca 9 opo beta noi foldiamo si foldiamo top 7 ma no la costruzione della mano non c'è trasluta mai niente scusate ma la tosse mi percuote sostanzialmente qui ma mancanza di lettura un overplane della nostra mano mano molto forte senza altre linee oggettiva top 7 su questo board ma dietro a range il nostro avversario direi che a parte che vi ho tenuto tipo tre quarti d'ora per una review relativamente semplice dovremmo sicuramente sistemare un po' per io intendo le nostre costruzioni di range se vogliamo continuare a giocare su questa room in analisi post facto quindi abbiamo giocato queste mani scontiamo le parti che non hanno fatto bene delle varie posizioni studiamo meglio la composizione del range for steam contro il player che fondano un po' di più che non abbiamo mai fatto ottimizziamo lo studio della tribet e lo studio del bvb che sono cose la tribet un po' meno il bvb e il range for steam sicuramente prima sono cose molto frequenti e che alzerebbero di tanto il nostro bb atteso rendendoci assolutamente meno exploitabili e in più studiando anche la composizione di difesa del bvb andremo a nostra volta ad allargare anche lo stile ora che abbiamo capito cosa andrebbe difeso e cosa i nostri avversari non difendono cosa ci fa fare soldi pensate all'equazione di cui vi accennavo prima su fold equity scontato dalla parte di tribet scontato dalla parte di difesa con la nostra equity modificata fotodr eccetera essere più consapevoli ci permette di giocare più attenti più accorti in più quando sbagliamo e ci sta manca solo che non sbagliamo mai però abbiamo seguito un filo logico che ci permette di capire perché se in una mano facciamo raise check check raise 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 e scopriamo di essere contro la station in un three way contro i fish o bet raise turn se vediamo anche questa mano o il bet call turn su questo turn con il giocatore e analizzando la mano lì o abbiamo overplayato ci abbiamo giocato nella nostra mano senza guardare cosa fosse il nostro avversario oppure non avevamo la lettura corretta sul nostro avversario su che tipo di ninja e ci sta è legittimo sicuramente è legittimo ma a fine sessione ci chiediamo abbiamo giocato bene si relax full tranquillità torno in Giappone con la canna di bambù ovviamente dove vedo i panda che bevono probabilmente non devo andare in Giappone per vedere tutte queste cose però sono rilassato sono sereno sono tranquillo prossima volta gioco bene routine positiva masso sessioni verdi ho giocato bene no risposta no come mai vado a vedere come mai che tipo di mani a cosa è associato non aver giocato bene e ottimizzo per la volta dopo così facendo le prossime volte avrò sempre più spesso una risposta affermativa alla domanda ho giocato bene e comunque si creerò una sorta di formamentis che mi permette di giocare e migliorare ogni volta che sto giocando che è una cosa importante se vogliamo andare poi a sfondare i prossimi livelli detto questo ragazzi io vi saluto anche perché sono in ritardo di 4 minuti col coaching odierno perché sono una polenta essendo veneto probabilmente è ciò che mi aspetta nel dna o del frumento di mais qualcosa si fa la polenta dovrei saperlo non sono un biologo ma non c'entra niente non importa su questa ultima sciocchezza ragazzi io vi saluto è stato un piacere ci vedremo spesso sì spero proprio di sì come chiuderemo i video chi se ricorda un saluto alla prossima del vostro l'arcane bye bye più o meno era così accontentatevi per questa volta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti